benvenuti a questo match della fase a gironi della competizione ogni punto di vittoria può essere importante per continuare il viaggio è vero pia luigi mi sembra siano scese in campo con la giusta convinzione intercienza e soprattutto la sfida contro l'ex murigno l'uomo del triplette capace di riportare i nerazzurri sul tetto d'europa grande professionista quali non credo proprio che farà sconti alla sua ex squadra oggi pier ho il controllo ragazzi mi ha fatto un murigno io voglio amare sono preso di vedere la squadra del celsi perché la mia carriera da giocatore è una bestia vediamo la formazione di partenza del celsi l'allenatore ha optato per un 4-5-1 che sembra nettamente smirazzo di avanti di un po' sta porca morita no non è il costo della celsi no perché ci sono supersi no e si muove a comprarla ci sono due attaccati esterni un 4-3-3 quella terza maglia ragazzi infatti è la cosa più bella di messa è la celsi comprerai in basso merito soprattutto l'impianto di grande tradizione l'ho visto quel capellino l'hai visto l'ho visto l'ho visto l'inter squadra che vuole ripetere la bella prestazione dell'ultimo match quello vinto in casa contro la juventus l'ho visto A 79 di overhaul su FIFA Cioè non sulla carriera Mettendo proprio tipo il calcio di inizio Bello passaggio Perisic Dai, dai Cosa fai? Che cazzo è successo? Cosa avevano creato qua? Solito culo, cazzo Come hai fatto a non prenderla? Oh, però che cazzo abbiamo creato qui ragazzi Dai, dai No Grande Mamma mia Levate dal cazzo No Merda Merda Stava per farci il gol della merda Ma onna cara ragazzi Chi? Per il tocco con la mano Forse l'autore del fallo Cambia per il campo da calcio Punto da basche Ah, voglio provare Oh, no No Che cazzo va? Per un po' l'ho fatto da solo Poi quando è arrivato a me L'ho fatto un po' Bel lavoro difensivo Ottimo veramente Non c'è dubbio Fuori gioco che c'era Bianco Mi dimostrano le immagini Anche se di poco Ottima la chiamata dell'assistente Qui ha interrotto un'azione Che... Ma non mi cambia il cursore Cristo Ma teglies Aggressivo Eh ma sti cazzi Chiuso bene Sul traverso Brozovic Hai carni parte Eh no Niente carni Invece sì carni I carni L'hanno provato Levasi la cazzo Che passaggio Dei Cazzo Non iniziare Hai appena mangiato Tu Tachemo Tachemo No Perché è andato a sinistra Bloccalo Grande Grande Così Bravo Oddio Cura 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 A caso A caso proprio Oddio Aia Porca Troi Dai minchia Oscar Vai prenderlo Vai prenderti l'Oscar Come Leonardo DiCaprio Minchia mi sembra Martez Oscar No Non nominare il nome Sì Di minchia Di bimbo minchia in mare Attenzione Che cosa Gli ho detto di fare Di fare il filtrante Tipo alto Tipo Filtrante cross E ha fatto Della roba Andai la sciampette Sospezza parole Veramente Perché hai Bu Sto facendo Sono iniziato a far passaggi A casa Hai riuscito a rompere la trama Con un buon intervento Micio Cosa fai dietro al computer No No Confuso il mio col tuo Cazzo Micio No Sto confondendo i colori Io sono Amosso Antanio Che cazzo Madonna Cosa stava rischiando Qua ragazzi Sono di una minchia Alex Telles Guario No Non mi cambiare Ma perché Ma perché si fermano Ma i miei si fermano Porco mondo A chi Che cazzo Cos'è successo E Hai Guarini Guarini sulla fascia Ma porca Troia Lascia Lascia Ma come rinvio Del portiere Ma se l'ha mandato fuori Il coglione L'ha mandato fuori E l'avrà L'ha detto Palle E fallo Cazzo Perisic Perisic Spati Se l'hai mandato Con le mani Permite Condo Sbia Non è nessuno Non è lui Oh belline Ma che tiro è Perisic Perché di sinistro C'era tutta la parte destra Scoperta E lui tira di sinistro Mica Sei un coglione Però Mica Era perfetto Stiamo Stiamo facendo Delle azioncine Mica male Ma mica Poi sbagliano Davanti alla porta Cazzo Stiamo facendo Futuro Tantino Stiamo facendo Tantino Tantino Stiamo facendo Ho visto la palla entrare in camera, bro. Cosa fa quello? Vuole un bacio, un autografico? Cioè, mi vedi? Ma povera. Puttana. No. Bestia! No. Eh, che cazzo! Viglia da lì. Ma perché non la prendono? No, non si muovono. Sono anche qui con la cazzo di levetta nuova. A schiacciarla lì. Levetta. Che cazzo è? Riletto, non mi ricordo più come spiegare. C'è il traverso. No! Che cazzo è saltato questo? C'è nulla questo. Io sono senza parole. Ha fatto il passo di danza, ha fatto. No, cazzo. Ha fatto il passo di danza. E spostati! Sto cazzo di William l'ha giocato. Non è intercettabile al portiere. Andi! Andi! Tantroia! Poteva ripartire! Ma sta corrotto! Ah! Questa minchia! Non è un po' cosa sta facendo il mio Manchester. Non c'è il mio Manchester City. via! Calcio all'inizio della seconda frazione per l'Inter. per il suo giocato. Quindi vediamo che... ... Icardi! Pravires! Era un passaggio quello Icardi? Isatto! Era un passaggio quello? Asatto! Oh infermabile Guardi Molto forte su FIFA Ha fatto un gol contro la Juve E adesso gli sento Che però Ha giocato un brutto primo tempo Girando un po' a vuoto e facendo mancare il suo contributo in zona gol Ci spiega anche il fareggio maturato al termine dei primi corretti a cipollini Sto già iniziando a rincoglionirmi Nella prima partita che ci stiamo oggi Se ti rivi dal cazzo Tu guarda la parte del censo Corri cazzo come sei lento Manco sempre L'ha appena detto Mi puttana corre Lo vede Attenzione Oh cazzo Non ho fatto il passaggio Condoppianza E' De Brozovic Nooo Che cazzo ho parato per tuo Che cazzo ho parato per tuo Bravo Brozovic Bello il prologo Ah si perché Cazzo Ho segnato Ho giocato con la carriera giocatore Aveva una cipollona casuale Nooo Ma che cazzo Lo facevo io gol da lì Dai non è possibile Lo facevo io gol da lì Oh Pazziti Pazziti Ma che cazzo Che passaggio di merda Condoppianza Si faceva una partita un po' Un po' Ciao Tiene aiuto al portiere Eh Il pro Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo Mi cazzo I carri No ma no C'è l'ultimo Io odio Quando fanno un pedo Mi odio Perché non viene mai Non viene mai Cazzo No Cazzo Perché mi stanno a fermo Non mi stanno a fermo Eh ma ma Fa culo Madonna Si non fai Ma me la scivolata Dietro Sciabolata Morbida Sciabolata Oddio Godo Ma che cazzo La mette dentro Madonna Sto gioco di merda Ma vi rendete conto Faccia da culo Faccia da culo 56 rimpalli Cazzo Il primo tiro in porta Che fanno Parco Nulla Ma va Infermabili In quattro Nessuno che la ferma Rivediamo Questo gol Da un altro Ma fa culo Che condobbiamo Adesso te ne vai anche fuori Per me Sì Mai hai rotto il cazzo Per cui Eeeh Metti i pia piani Cazzo Cazzo Mi cazzo Vai Vai C'è Abbiamo giocato Vai Viabio Vai sulla fascia Melo Dai Come fa Cazzo No No Io sono In contro Bestia No ma Lezzo Qualcuno Gli pigli La palla Che questi Sono diventati Infermabili Guarda Palle Lezzi Non c'è nessuno Cazzo Offensiva di sta micchio Sono tutti in difesa Perché sono infermabili Micchio Guarda Guarda Oh mamma Salta l'uomo Attenzione Ma che cazzo Infermabili Te l'ho detto Che sono infermabili Basta E' finita Sta partita E' finita Quando diventano Infermabili E' un casino E' però Anche tu Anche tu Cazzo Oh Mi fa girare La micchia Dai Ma cambia C'è Bionini Non è C'è 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 Il pubblico di casa capisce che questo è il momento Qui si può fare una storia E allora Continua a incitare la storia Mi metti Oltreoffensiva Cazzo Grazie Guarino Ecco il tiro Mi ha segnato melo Mi ha segnato melo Mi ha segnato melo Mi ha segnato melo Che ansia oh Cade Felipe E qui cor e qui in corso qua non va a fare niente e qui in corso qua ti lo vede di sinistra no, meno male che l'ho messo posto in condobbiato sennò adesso non l'avessero siamo di nuovo in parità non era in partita non era in partita non è in cosa mi ricorda 3-2-1 se il mio Ivanovic Pedro qui non so ne ha anche le responsabilità 3-2-1 la lettura difensiva sul cross wow oh, picchia, non corre è stanco morto pigliagliela no, cazzo, ogni volta quanto mi stanno sul cazzo i portieri di FIFA 16 che fanno così occhio no, dai, ma che cazzo bravo, bravo no, no vabbè, vabbè siamo ancora primi ce l'hanno a merizzare un po' cazzo cazzo sono cagato ho messo il piede sotto la tastiera sento qualcosa di morbido eh, stai calmo, eh potrei fare il cazzo eh, sei già attaccato a te no, no, no sicuramente sopra la media può fare ancora di più ovviamente insomma, c'ha un buon punto di partenza guardiamo un attimo quanti tiri abbiamo fatto non abbiamo fatto no ah, beh abbiamo fatto di più ora hanno fatto di più eh, insomma, eh equilibrata sì però vabbè, minchia siamo soli a sette punti loro ne hanno quattro e le altre fanno cagare no, quattro con questo si aspetta quel cazzo non mi ricordo più ninja qui invece siamo settimi sì, vabbè, qua simpatico come siamo? tre no, quattro tre vedi, siamo ah, no, tre ehm sì dai, va bene direi che volendo possiamo anche passarla la Nintendo, la fase gironica chi è che rompe il cazzo? sì, certo, Brozvic è giocato anche bene sta giocando malissimo Brozvic ok, ragazzi la prossima è contro il Palluermo poi c'è il Bologna due squadre che in teoria offerta per ora qui alleniamo assolutamente allora accetta no, non voglio dai e quindi Palermo e Bologna in teoria due squadre però in pratica ci servono punti ci servono molti punti anche bene perché il Bologna è quarto ma che cazzo vabbè vabbè è tutto strano vediamo un attimo Bologna, Roma, Lazio sì, magari la Lazio fosse terza proprio Lella sei ottava sì, ok, abbiamo capito che la logica di FIFA è sì, Sassuolo dici al settesimo no, il Magico Sassuolo no dai quindi ragazzi ci vediamo alla prossima partita sì, 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 sì